Voglio salutare il senatore Toninelli che è tornato a trovarci stamattina, grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, eccoci di nuovo insieme. Insomma, il lavoro è tanto, si immagina, si lavora a quelle che potranno essere le modalità di riapertura, però ne parlavamo prima con altri ospiti, con il senatore Mirabelli. È così evidente un problema in questo Paese, messo in evidenza dalla drammaticità della situazione, che c'è stato, c'è un problema di competenze in questo Paese tra Stato e Regioni. Allora, io penso che la parola da utilizzare oggi invece che le 4D sia la parola intelligenza, perché è fondamentale che per evitare che domani si debba richiudere tutto, come ai noi sta accadendo in altri Paesi che hanno subito la pandemia prima di noi, sia quello di usare intelligenza, a cui abbino la parola coordinamento. A me dispiace, dirò da Lombardo, Fontana ha fatto l'ennesimo errore, perché seppur è ovvio che sia condivisibile, è scontato dire che tutti noi vogliamo tornare a vivere una vita normale e anche una vita lavorativa normale, andare in ordine sparso è un rischio, perché la vita normale e l'economia ripartono in una maniera normale, ma che tanto normale per un po' di tempo non sarà, solo se la salute dei cittadini è messa in sicurezza, e le scelte delle singole Regioni di andare in ordine sparso, senza un coordinamento che ci deve continuare ad essere, mette a rischio questa ripartenza in sicurezza. Quindi coordiniamoci, facciamo, ma semplicemente per un ovvio motivo, perché il sistema produttivo italiano è completamente interconnesso, anzi, il sistema produttivo italiano è interconnesso anche a livello europeo. Qui non solo ci vuole una strategia nazionale di riapertura intelligente basata su dei criteri oggettivi, ma ci vuole anche una strategia di riapertura europea, perché se qualche nazione apre il sistema produttivo prima dell'Italia, ad esempio, è ovvio che si possono creare le condizioni di una concorrenza sleale. Quindi lavoriamo su questo con intelligenza e senza lo spirito che, ahimè, è presente di natura politico-propagandistica che porta avanti Fontana, che purtroppo in un momento di difficoltà per la cattiva gestione della sanità in Lombardia e i numeri lo dicono, spera che i cittadini lombardi italiani pensano ad altro quando lui dice, parla di un altro argomento. Fontana oggi si deve occupare primariamente della salute dei Lombardi, perché 12.000 morti sono un'ecatombe, ci sono ancora centinaia di morti quotidiane. Come si può parlare di non parlare più di questo e parlare principalmente di ripartenza? Prima mettiamo in sicurezza i nostri concittadini lombardi e insieme a questo, con intelligenza e criterio nazionale, ripartiamo. Lei dice da Lombardo, ne abbiamo già parlato insieme giorni fa, lei ci ha detto non è rimasto un solo Lombardo che non abbia avuto in qualche modo una persona a sé vicina, magari solamente un conoscente, ma comunque che non abbia avuto una persona che non sia deceduta. Questa è stata ed è continua purtroppo ad essere la situazione in Regione Lombardia, senatore. E' proprio così, guardi, io passo le giornate, quando non sono a Roma in aula, in commissione, al telefono a fare videoconferenze e lo stato d'animo è ancora quello della paura, del terrore. Ora purtroppo a questa paura e terrore che continua si sta affiancando quello della rabbia, perché le inchieste che la magistratura sta facendo, quella guardia di finanza che ieri l'altro era negli uffici dell'assessorato al welfare della Regione Lombardia, quelle verifiche che stanno facendo al Pio Albergo Triburzio e le centinaia e le tante case di riposo. E' un'oggettiva constatazione di una cattiva gestione, di una risposta inadeguata ad una situazione complessa come questa, che ha comportato dei numeri in Lombardia. La Lombardia ha il 50% dei morti di tutta Italia e circa l'8-9% di tutti i morti mondiali dal coronavirus. È una cosa incredibile, io non ci dormo, è una cosa veramente, anche chi magari è fortunato e non ha avuto il parente o la persona se è vicina direttamente colpito, comunque sia non sta in una situazione di normale serenità e di vita quotidiana ovviamente. Ed è, cosa lo dimostra questo? Che i Lombardi si stanno comportando bene, come mi pare, una gran parte degli italiani, cioè stanno rispettando le regole e stanno rimanendo e rimangono in casa. Quello che chiediamo anche al governo della Lombardia, al governo della Lega che gestisce la sanità, di fare altrettanto, cioè di utilizzare quelle capacità, quella forza decisionale ed organizzativa che ora non c'è ancora stata, ma ammettendo magari anche degli errori, si può anche chiedere scusa, si può dire abbiamo sbagliato, abbiamo puntato troppo sulla sanità privata che non era adatta per rispondere all'esigenza di cura del Covid e ora cambieremo con una riforma della sanità. Cioè ci diano delle risposte, perché è quello che abbiamo visto, ma veramente lo dico oggettivamente, la fiera, l'ospedale d'emergenza nella fiera, sono stati 21 milioni di euro che non hanno portato praticamente a nulla, che magari potevano essere d'aiuto ai medici, ai sanitari e a quelli che lavorano negli ospedali. Però lì si dice che è un ospedale che comunque rimarrà, insomma questo è quello che ha detto il Presidente Fontana. Io non lo so se rimarrà, non lo so se rimarrà, so che è stato fatto fuori tempo massimo e che non ha portato agio in Lombardia. Speriamo che possa esserci, mancherebbe altro che possa essere utilizzato. Però quello che io ho visto, che mi ricordo, è qualche settimana fa una conferenza in pompa magna con assembramenti tra l'altro tra politici e quant'altro per farsi vedere di fronte alle telecamere a cui non è conseguito di fatto un successo nel rimediare all'assenza di posti letto e all'assenza di una risposta concreta nelle cure dei cittadini lombardi. Ma sono constatazioni oggettive, non sono constatazioni politiche. Quindi io penso che Fontana, la Lega che amministra Lombardia, guardi un po' di meno ai cittadini lombardi come votanti e li guardi un po' di più come cittadini che chiedono di garantire il loro diritto costituzionale alla cura e alla salute. Senta Toninelli, avevo solamente un paio di minuti, ultima battuta. Continuiamo a parlare di fase 2, di riaperture, Colau è al lavoro con la sua squadra e dovrà poi indicare quelle che saranno al governo quelle che saranno le risultanze di tutto ciò che si sta facendo in queste ore e in questi giorni. Poco fa abbiamo avuto tra gli ospiti Giorgio Amaloni che ci diceva nel momento in cui dovremmo riaprire io sarei per una riapertura di tutte le filiere insieme, magari con lo Stato che si prende in carico la sanificazione delle aziende, costerebbe meno che tenere chiuso il Paese. Mi sembra che la comunità scientifica, invece o comunque una parte importante della comunità scientifica, ritiene che invece sia più probabile, possibile e comunque più virtuoso pensare ad una riapertura magari programmata in maniera diversa di alcuni comparti industriali, dei comparti industriali di questo Paese. Lei che pensa? Allora penso che oggi più che mai si debba basare su dati scientifici e le opinioni che ovviamente vanno rispettate ma sono oggi opinioni e io penso che si possa fare qualche cosa quando questo pensiero non è avvallato da valutazione di natura scientifica per le interconnessioni che ci sono tra le filiere produttive che significa spostamenti di lavoratori, che significano tanti elementi sommati quali si può fissare la soglia di rischio per un eventuale contagio. Da questo semplicemente dobbiamo partire. Quindi la logica è una logica certamente nazionale. La protezione civile deve continuare a supportare le regioni ma ripeto, questo non è il momento di lanciare un sasso per cercare di cogliere qualche consenso di natura elettorale ma senza sapere che cosa va a colpire questo sasso. Ed è fondamentale veramente questo perché la compattezza del governo che c'è nonostante tutto la compattezza del governo c'è e Conte andrà in Europa a far valere alti gli interessi gli interessi italiani, dei lavoratori italiani, degli imprenditori italiani. È importante che sia anche una compattezza di natura popolare la compattezza dei cittadini perché spaccare i cittadini oggi dicendo una settimana fa hanno firmato il MES non era mai stato firmato oggi riapriamo tutto senza dire come si riapre. Si crea un senso di incertezza che non aiuta né le imprese né i singoli cittadini. Oggi più che mai c'è bisogno di serietà e di certezze e la base di queste certezze è la base scientifica che porta a delle decisioni di natura politica non è che abbiamo esternalizzato ai comitati scientifici le decisioni politiche ma ci siamo dati un modello, il governo si è dato un modello che è il modello di base scientifica a cui poi segue la decisione politica condivisa con le regioni che però non devono andare da sole devono mettersi al tavolo tutti insieme ed insieme al governo e decidere insieme. E che così torniamo appunto all'inizio della nostra chiacchierata. Mi sembra, proprio 20 secondi Donnelli mi sembra che dalle sue parole si capisca che c'è un'apertura su un MES rivisto e corretto. Ma allora il MES è nato per aiutare singoli paesi in difficoltà questa è una difficoltà non di singoli paesi ma di tutti i 27 paesi europei quindi il MES è inefficace, inadeguato, sbagliato tecnicamente se poi lo utilizzi crea una fibrillazione dei nostri titoli sovrani che potrebbe metterci in situazioni di difficoltà da speculatori finanziari quindi è proprio una scelta tecnicamente sbagliata e la risposta è sbagliata ad un'emergenza che è diversa da quella per cui il MES era nato. Perciò è no. Bene. Allora Senatore, grazie per essere stato con noi e insomma spero di ritrovarla presto. Buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro anche a lei. Grazie. Allora, grazie a Danilo Toninelli.